mister dal canto quanto deluso da questa partita ma oggi doveva essere una gara che ci poteva mettere a riparo da sorpresa invece è la prima partita dove tra virgolette abbiamo la pressione di dover vincere per metterla a posto e ci siamo squagliati nella difficoltà. Il primo tempo secondo me è stato fatto come pensavamo venisse la partita abbiamo avuto tre palle e gol clamorose abbiamo concesso qualche ripartenza a loro però per il tipo di atteggiamento che abbiamo avuto ci poteva stare siamo stati magari poco maliziosi nel fermare qualche contropiede del San Marino magari con qualche fallo tattico che non fa mai male però la partita era in piedi poi appena siamo andati svantaggio non abbiamo retto alla pressione siamo proprio squagliati abbiamo fatto solo confusione non è andata come speravo. Ha cercato dall'inizio di dare un po di cambiamento rispetto alle scorse partite dal punto di vista del modulo che cosa cercava di ottenere qualcosa in più magari in avanti? No in generale mi sono sempre messo con i tre quando il modulo dell'avversario mi permette di andarlo ad aggredire alto se oggi sapevo che giocavano 4-3-3 per non mettermi con cinque centrocampisti aspettare aspettare loro abbiamo scelto di andare come abbiamo giocato per un girone intero abbondante quindi non era una novità se con una delle palle che abbiamo avuto il primo tempo andiamo in vantaggio credo che la partita potesse andare sul binario che preferivamo non l'abbiamo fatto e non siamo stati sufficientemente calmi ad aspettare l'errore dell'avversario abbiamo avuto una foga che in questi momenti qua non ci aiuta adesso a due gare dalla fine con tre punti di vantaggio abbiamo dimostrato oggi di non saperla reggere la pressione dobbiamo stare calmi perché sennò facciamo una frittata senza fine. Ecco da questo punto di vista è preoccupato? No sapevo che dovevo giocarmela fino alla fine questa squadra qua ha fatto 26 punti di giorno d'andata dove non c'è la pressione della classifica dove abbiamo giocato liberi mentalmente adesso che è ora di stringere dobbiamo avere forza per riuscire a portare a casa una posizione che abbiamo ottenuto per tutto l'arco del campionato sarebbe stupito da parte nostra buttarla via per ansia in questo momento qua noi abbiamo ansia dobbiamo levarla. Fatalità il primo gol loro è arrivato subito dopo il cambio di D'Apollonia un po' scop... sì tutto chiaramente un caso perché ovviamente però... Pasini nell'uno contro uno ma non per dare una questione tecnica assolutamente no non ha alcun significato la squadra era equilibrata lo stesso perché siamo rimasti con due mediani fin di conti le ultime partite le abbiamo sempre giocate 3-4-3 con due centrocampisti soli davanti alla linea difensiva e nell'azione del gol eravamo in tre dietro Pasini, Sosa e Bertolucci quindi non cambia niente da quel punto di vista è un errore ci sta questo momento qua noi lo paghiamo caro perché non c'è tempo e senza centrocampo si fa non sentire perché come si usa dire un po' di fosforo un po' di interdizione sicuramente in questa fase di campionato in più ci voleva ma io sto facendo giocare Martinelli perché lo teniamo in piedi con i cerotti tra pubalgia e viti nel dito si vede lampante che non sta bene però per giocare a due centrocampisti o solo lui dobbiamo stringere i denti e tener duro senza piangerci addosso perché non mi piace abbiamo perso una partita che non dovevamo perdere il calendario ce ne dà altre due e la pro in questo momento qua noi dobbiamo sperare le disgrazie della Feralpi non mi piace però dipendere dagli altri e noi oggi avevamo la possibilità di determinarci il nostro destino non siamo stati bravi a farlo però ne abbiamo altre due e quindi in questo momento qua l'unico pensiero che abbiamo l'unica motivazione l'unica concentrazione di forza che abbiamo è verso la Cremonese che è il prossimo ostacolo che ci deve consentire di andare dentro sappiamo che è una partita difficile però oggi siamo venuti contro la penultima classifica e non caviamo un ragno dal buco magari facciamo qualcosa di meglio contro qualcuna di alta classifica sulla fascia destra Campania ha spinto veramente molto questa volta ha retto i 90 minuti cercando di mettere cross su cross ma alle volte la flessione che può avere Dario è dipendente dal ruolo un conto è fare il quinto coprire 80 metri un conto è fare il terzino destro vediamo sono due moduli che riusciamo a interpretare abbastanza bene oggi secondo me il primo tempo è stato fatto bene non abbiamo non siamo andati in vantaggio però ci siamo creati tanti presupposti per poterlo fare l'abbiamo pagata a caro prezzo perché secondo me la vehemenza dell'avversario si poteva spegnere con il gol nostro invece così tra virgolette abbiamo tenuto la fiammella accesa per una squadra che giustamente fa la sua partita che si poteva spegnere con la squadra che si poteva spegnere con la squadra che si poteva che si poteva spegnere con la squadra che si poteva spegnere con la squadra che si poteva